Ciao a tutti ragazzi, qui è Archivi Parla, e un pochino per continuare quella specie di serie di video che ho fatto, oggi facciamo gli auguri a Revelations, che circa una settimana fa ha compiuto ben tre anni. Abbiamo parlato di The Riz, che era il DLC 3, e non proprio 4, ma l'ultimo DLC di World at War, abbiamo parlato di Origins, che era l'ultimo DLC di Black Ops 2, ma anche ovviamente Moon come ultimo DLC di Black Ops 1, che è uscita nel 2010, quindi il tempo è veramente, veramente tanto, ma se non sbaglio è uscita il 23 di agosto o qualcosa del genere, quindi è passato già più di un mese, e mi sembra un pochino più giusto parlare invece di Revelations, essendo quella più recente in assoluto, essendo anche quella molto controversa, come è stato controverso anche Black Ops 3, per ricollegarsi a Tag Their Totem, che uscirà tra pochissimo tempo su PS4 per Black Ops 4, e concluderà completamente la storia di Etere, vedremo forse in futuro Zombie Chronicles 2, ma dal punto di vista cronologico appunto delle mappe e della storia, con questa finirà tutto quanto per tutte e tre le crew. Quindi Revelations è uscita come ultima mappa di Black Ops 3, ed è quella che ha generato più controversie, sia per il fatto di essere su Black Ops 3, che era uno dei giochi più strani in assoluto, perché non era rivoluzionario come è stato magari Black Ops 4, però era chiaramente molto molto facile, famoso perché hanno fatto i round 100 il giorno 1 su Shadow of Evil, e così per altre mappe. Però ovviamente altre mappe come The Rise of Dracca, Shadow of Evil, Grodd Crovis e Tsubunoshima, richiedevano comunque un setup minimo, fare qualcosa in più, per riuscire a fare una partita come si deve, e comunque c'erano delle strategie molto facili, molto veloci, ma non a livello di Revelations. Qua abbiamo visto i record salire alle stelle, io ad esempio ho fatto un 133 con quella vecchia strategia delle due finestre che è stata poi risolta, e l'ho fatto in se non sbaglio 6 ore e 40, che è veramente pochissimo tempo, perché i tempi ho fatto anche per dire un 100 su Kino, molto molto indietro, e lì mi aveva richiesto se non sbaglio una decina di ore, comunque era stato molto molto lento, però la differenza è abissale, perché per fare 133 round, quasi 7 ore, per farne solo 100, dall'altra parte una decina, che potrebbero essere magari per dire 8 se ottimizzate, la differenza è gigantesca. Poi su Black Ops 3 ovviamente le Gabble Gum, le due Under Weapon, quindi quella di Shadow of Evil potenziata e il Cannone Zeus, poi il Ragnarok, i Lelerni potenziati, era tutto qualcosa di veramente allucinante, le maschere, cioè proprio su Revelations c'era tutto, era la mappa più facile in assoluto, e appunto andate le battute come per dire, pure mia nonna potrebbe fare il round 100 su Revelations, perché moltissime persone hanno fatto il loro primo 100 su questa mappa, essendo molto molto facile, che secondo me in parte ci può stare, perché per dare a tutti quanti anche più caso alla soddisfazione di vedere il round 100, nonostante sia nelle mappe più facili in assoluto, però su Black Ops 3 in generale il 100 su Shadows l'ha fatto chiunque, che la strategia era molto molto facile, Delisandrack era un pochino più complessa, ma gli archi erano davvero forti, Girlcrow era forse la più complicata, se Tsubunoshima si è imparata per bene la strategia, anche quella era spettacolare. E comunque appunto torniamo al fatto che Black Ops 3 è stato uno dei primi Black Ops che ha un pochino diviso la community, essendo qualcosa leggermente diverso. Ripeto, non rivoluzionario come è stato Black Ops 4, però ai tempi c'era moltissimo hype, è stata una grande crescita propriamente della modalità zombie, come sono stati un pochino tutti i capitoli, però molti avevano notato la differenza rispetto ai precedenti, dove c'era un pochino meno skill, la storia delle Gabblegam è famosissima, come anche soltanto quittare, chiudere l'applicazione su PS4, o chiudere il gioco su Xbox One, e bam, salvate tutte le Gabblegam, potevamo usare specializzato, shopping sfrenato, power vacuum, c'era qualunque cosa, infatti io e Astro abbiamo fatto anche dei 100 nella first room di Ascension, senza accendere la corrente, perché vai di immolazione liquida, esponi i saldi, un bello specializzato, potenzi le armi a muro, le armi dalla cassa, puoi andare avanti tranquillissimo. Probabilmente su Zubelcoop 3 c'è stato anche poi Zombie Chronicles, che ha fatto partire ancora più hype, perché unire il classico all'innovazione, e lì secondo me era perfetto. Ma trovando il discorso di Revelations è stata la conclusione della storia dei primis di Black Ops 3, con il ciclo infinito che riparte dalla Grande Guerra nel Medioevo, e appunto ai tempi c'è scritto The End, proprio conclusa, la storia, secondo almeno quello che sembrava ai tempi, era data a concludersi definitivamente, e la storia di Tere era chiusa in quel modo lì. Ovviamente con Black Ops 4 e il trailer di Blood of the Dead ha meno creato un hype spaventoso, e con quel trailer mi hanno letteralmente venduto il gioco, anche perché, nonostante appunto la storia fosse in parte teoricamente conclusa, c'era scritto proprio The End, ma alcuni, dato che c'erano i puntini di sospensione, pensavano che in futuro avrebbero ripreso qualcosa, e Black Ops 4 appunto vediamo che è teoricamente una variante della storia originale, che è un ciclo infinito. Tutti quanti hanno sempre apprezzato tantissimo la storia di Tere, per le crew, per tutti i personaggi, appunto, tutta la storia, anche se è diventata molto molto complessa, con diverse dimensioni e linee temporali, tutti volevano vedere ancora della storia Tere, ma penso che sia arrivato il momento adesso, specialmente con Black Ops 4, di finalmente farla riposare e farla concludere definitivamente. Poi se faranno un reboot, un Black Ops 5, un Black Ops reboot, quello che è, possono farlo, però almeno questi personaggi, questa storia, dopo più di un decennio, dopo tutto questo tempo, fatela riposare, perché ha fatto veramente crescere la modalità zombie, veramente, a livelli incredibili, ma è anche arrivata leggermente scemando con Black Ops 4. Già con Black Ops 3 poteva concludersi, Black Ops 4 è stata una spinta in avanti molto forzata, ma ci può ancora stare, ma dopo questo, per me almeno, basta. Ora che ci penso c'è anche un pochino la discussione su Revelations, per il fatto che l'Easter Egg fosse qualcosa di veramente facilissimo, comunque i passaggi in mezzo non erano troppo complicati, ma specialmente la boss fight erano quasi una barzelletta, perché se avevi le armi giuste e un setup come si deve, era facilissimo, mentre confrontando l'esempio con le boss fight di The Rise and Dracke, o anche quella di Gord Crowley non c'era al minimo paragone. Se Tsubunoshima anche quella aveva una boss fight molto molto facile, io ho fatto quell'Easter Egg moltissime volte perché era davvero divertente, mentre già quella di The Rise and Dracke era molto più lungo l'Easter Egg in generale, e la boss fight richiedeva molta più attenzione, e anche l'Easter Egg di Gord Crowley, specialmente adesso che se ne parla che l'hanno sistemato dopo tantissimo tempo, è forse uno dei più complessi di Black Ops 3, almeno a mio parere, perché è molto lungo, alcuni passaggi come quello delle bombe bisogna stare davvero davvero attenti, e anche la boss fight con tantissimi passaggi e si rischia di morire tutti quanti dal nulla, o anche finire le munizioni, che è una maniera bruttissima per concludere la partita e non finire l'Easter Egg. Altra pecca di Black Ops 3 erano chiaramente poi i setup infiniti, che erano uno step successivo a quelli di Black Ops 2, che già erano lunghi i setup iniziali tipo 20 minuti e mezz'ora, con Black Ops 3 in certe mappe come Shadow Survival, The Rise and Draca, i primi, non lo so, 5-6 round duravano un'ora soltanto per prepararsi e tutto quanto, e con Black Ops 4 hanno leggermente ammorbidito questa cosa che era diventata abbastanza esagerata, però era divertente anche il fatto di essere, non lo so, round 5-6, avere già la Wonder Weapon, tutti i perk, l'arma speciale che poteva essere, non lo so, la spada, il ragnaro, con queste cose, e subito fare round molto lunghi o prepararsi, ad esempio, per gli easter egg, o anche semplicemente per una partita di divertimento. Ma anche nelle partite di divertimento bisogna fare minimo il setup, non lo so, della mappa, quindi i rituali, o quel che era, trovarsi le armi, potenziarle, la Wonder Weapon, quindi anche in una partita fatta per semplicemente divertirsi e passare il tempo, si perdevano, magari, non dico per forza un'ora, ma 20 minuti e mezz'ora per prepararsi alla partita, motivo per cui io mi ricordo che al lancio ho giocato tantissimo The Giant, che sarebbe ovviamente il remake di The Rise, perché il setup era inesistente, ci volevano 5 minuti per accendere la corrente, prendere un'arma e mettersi a camperare. Shadow of Evil era molto molto più comoda per XP, high round e tutto il resto, ma, diciamo che anche per il fatto di essere ancora legato a Black Ops 1 e Black Ops 2, non volevo del tutto staccarmi, poi quando dovevo fare per bene prestigi e livelli, ho iniziato a nerdare Shadow of Evil come si deve, ho iniziato a apprezzarla anche leggermente di più. Però ogni volta dover fare il setup diventava parecchio noioso, anche se appunto quando eri già tipo al 50, 70, al 100, non ci pensavi più, e ti godevi la partita che era velocissima, tantissimi zombie, tantissimi XP, tantissime uccisioni, e quella era veramente una delle cose più belle di Black Ops 3. Per cui ragazzi, tre anni da Revelations, il tempo comunque va veramente veloce, perché Black Ops 3 sembra uscito veramente pochissimo tempo fa, ed è già quasi anche un anno per Black Ops 4, che è uscito i primi di ottobre, e molto presto vedremo Attack Their Totem su PS4 come ultima mappa zombie, vedremo come sarà questo easter egg, questa conclusione della storia, cosa verrà spiegato, quali personaggi secondari verranno approfonditi, e se in futuro la Victis Crew potrebbe essere ripresa con un DLC 5, Zombie Chronicles 2, e se tutti i rumor di questo periodo, che sono molto strani tra remake o comunque remastered delle mappe vecchie, Bared, Die Rise e Transit, e si parla anche di alcuni remastered molto fedeli all'originale di certe mappe, che abbiamo o già visto o ancora non visto del tutto, e qualche collegamento a Zombie Chronicles originale di Black Ops 3, ma per adesso appunto sono tutti rumor e leak, e quindi sono qualcosa di ancora molto molto lontano dai nostri pensieri, concentriamoci per adesso sul DLC 4, adesso parte una nuova settimana, quindi spero nuovi teaser, e possibilmente un trailer, quindi stiamo pronti. Spero come sempre ragazzi che vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo, un abbraccio, ala.